Blitz antidroga della polizia Niscemi, tre gli arresti per detenzione di cocaina, marioana e hashish. Le manette sono scattate ai polsi di Salvatore Cilio, 40 anni, Giuseppe Zappalà, 43 e Carmelo Russo, di 34 anni. Gli agenti del commissariato, diretti da Andrea Monaco, hanno tenuto sotto osservazione l'abitazione di Cilio, soggetto conosciuto alle croneche per i diversi precedenti per spaccio. Un viavai di persone che ha insospettito la polizia. L'irruzione ha dato gli esi disperati. All'interno c'erano Zappalà e Russo. Nella vetrinetta della salone cucina, nascoste all'interno di un contenitore per tabacco, c'erano 14 involucri di carta stagnola preconfezionati contenente sostanza vegetale essiccata del tipo marioana, del peso lordo complessivo di 16,9 grammi. Sempre all'interno di un contenitore per tabacco è stata rinvenuta una busta in accello fanno con all'interno della marioana essiccata del peso complessivo lordo di 33,3 grammi. Inoltre, sul tavolo di una delle camere, gli agenti hanno rinvenuto un piatto di porcellana contenente della sostanza superfacente del tipo cocaina, del peso netto di 0,5 grammi ed una scheda telefonica utilizzata per il taglio della sostanza. Su un altro piatto di porcellana invece è stata trovata altra cocaina del peso netto di 10 grammi e altre due schede telefoniche, oltre ad un bilancino di precisione perfettamente funzionante con adagiato, sopra il piatto di pesata, un involucro in accello fanno con all'interno della cocaina, del peso lordo di 0,25 grammi in fase di confezionamento ed un altro involucro già confezionato con all'interno 0,24 grammi di cocaina. Sempre all'interno della salone cucina dell'abitazione e su una sedia c'erano 470 euro suddivise in banconote di medio e piccolo taglio a provento dell'attività di spaccio. A Carmelo Russo, sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stata contestata la violazione del provvedimento in quanto trovato in compagnia di altri soggetti pregiudicati. I tre arrestati dalle ultime ore sono stati reclusi nel carcere di Contrada Balate a Gela a disposizione dell'autorità giudiziaria.